E' un divano E' un divano Ma è incredibile Si chiama proprio Schiacciante Mostruoso Ok Questo lo metto qua E mo l'unico problema è farlo entrare Dio madonna C'è la lasciata secondo me Mentre invece in America c'è questo Ce l'ho Ce l'ho Insomma le mie domeniche erano Erano Live sempre Quindi non ho mai fatto quei pranzi In famiglia Quelle cose Quelle gite Quelle feste fuori Quelle cose Per cui dici stacco tutto E niente Soprattutto adesso dopo il covid Mi sono resa conto che La libertà Mi hanno tolto tanta libertà No? Questo periodo a tutti noi in realtà Quindi io mi riprendo almeno un giorno Almeno un vero giorno di pausa Grazie mille per i 100 beats Ah ragazzi I'm betraying level 1 85% Possiamo farlo arrivare Possiamo farlo arrivare L'iPadre Number 2 Oh mio dio come soffro Le P97 A Massas Caster A Ricavi E a Jovam A Jovam 9 9 6 Non mi ero accorto Di questa cosa Grazie a Smoking Style Andare a fare il militare Puoi fare tutto Però a 21 Puoi bere Infatti Infatti Sti ragazzi Si sfasciano Cioè Io Dei miei amici Non so se il tuo microfono O il carro No Dai È Mercedes Che chiama Mi è arrivata una notifica Mi è arrivata una notifica Scusate Aspetta Devo capir Come schippare Dario Stasera È full pepega Ecco Ad esempio Dicevano Basta Basta Pizza Sì No No Le battono Quelli dei pc Sono ancora peggio Ma che stai a fa Ma che tocchi Che ti dà via I quanti I quanti Quelli da 20.000 euro Fatti apposta Per scaricare la corrente Ma che fai Hai messo il dissipatore così No Andava così Perché l'aria Per una percentuale Del 0,1% Raffredda di più Quindi va messo lì Così No Ma che stai a fa Hai preso Che 9 Quello Devi via Quell'altro Ah mi fa ridere Questo tizio Che scrive Mua Allora Nel mezzo al tumulto La gente contenta E ci lascia uno Così lontano Mua Nessuno lo cacherà mai Però lui Comunque C'è Mua O come quello di prima Bello il trailer Però il gioco Il gioco Fa cà Io gioca Street Fighter Street Fighter L'unico Piccadur Europarista Quante combo Giocalo con Salfa stick Non serpi stick L'arcade stick Solo i very Arcogamer Giocalo con L'arcade stick Oh yeah Street Fighter E Smash E non merda Vada scrivere sui forum E sui gruppi Facebook Ultramoderni Che Smash Solo un party game Solo Street Fighter Ho 50 anni e vivo con mia madre Ready Can you touch your belly button with your elbows? Oh no No one can do that I guess No one can do that I guess I love it Oh yeah Sabe Non mi poteranno Tocchio E Mi giuro nella mia bag game E non mi poter fare E non mi poterlo in un po' di siti Sì sì No qui invece io stavo lì Che cercavo Perché ero l'ultimo Tra i miei amici Che cazzo è? È una shiny? È full? È di nuovo È di nuovo Sì 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 Gli americani mi metton proprio Ma Che dà Ma ho capito Jennifer Devo essere sincero con te Sei figa Sei simpatica E secondo me Tanti Però E secondo me Tanti sborrerebbero Guardandoti Però Però Non è che puoi prendere La più forte OnlyFanser E basare il tuo ragionamento Su quello Ma bene Ovviamente Ma sicuramente Cioè Ovvio che non punto Ma scusa ma Ok E poi così Mamma mia Bello bello Un vero Super Saiyan Devo dire Una cosa Disgustosa Ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? A fare una cosa del genere? Cioè Fa veramente Cagare Grazie Un attacchiore Si va a letto Va bene Mi sa che si va a letto Scusa ancora Ti voglio bene